Non avrebbe più febbre, al momento sarebbe asintomatico il 33enne di Torricella in provincia di Taranto, risultato positivo al coronavirus. Lo riferiscono fonti dell'ASL di Taranto, precisando che alcuni parenti del 33enne sono stati sottoposti a controlli e messi in isolamento e si è ancora in attesa dei primi risultati delle loro analisi. Un camion ribaltato questa mattina sulla provinciale per grottagli a Francavilla Fontana, dinamica rocambolesca per il sinistro stradale. Lavorano gli ortaggi in campagna in un periodo molto intenso per la raccolta e con regolare assunzione, ma l'Inps non assicura il riconoscimento delle giornate. Protesta dei lavoratori della ditta Stefano Caroli davanti alla sede di Piazza Vittoria, il titolare dell'azienda accompagnato da un sindacalista e i lavoratori hanno chiesto un incontro con i vertici dell'Inps. Calcio nel turno infrasettimanale di Serie C, la Virtus Francavilla cade 2-1 a Vibo nel finale, vince il Monopoli, un pari per il Bari. Lecce attesa per la sfida contro l'Atalanta, il Brindisi prepara la gara col Bitonto, operazione riuscita per Manzo del Taranto. Buonasera, bentornati all'appuntamento con il telegiornale di Canale 85. Come avete sentito dai titoli, non presenta sintomi e non avrebbe più febbre il 33enne di Torricella, che era risultato positivo al coronavirus. Lo hanno riferito fonti dell'ASL di Taranto. Potrebbe arrivare a breve dall'Istituto Superiore di Sanità la conferma o meno in merito al caso di coronavirus tarantino. Nel frattempo non torna fortunatamente la febbre al 33enne che non mostra nemmeno sintomi. L'uomo di Torricella era risultato positivo al tampone. In ogni caso, come da protocollo, resta sottoposto a terapia e ricoverato, lo ricordiamo, nella stanza a pressione negativa dell'ospedale Moscati di Taranto, dove è giunto martedì scorso. Si attendono anche i risultati delle analisi dei parenti dell'uomo. Giusto per chiarezza, per dare le notizie giuste del caso, insomma, il cittadino in questione è arrivato il 24 sera, quindi stiamo parlando di lunedì sera, è arrivato all'aeroporto di Brindisi, credo. Allora, la mattina, quindi, è stato ricoverato perché aveva dei sintomi e giustamente io, mentre ero in riunione con i sindaci e con i responsabili ASLO per avere un'indicazione più precisa e univoca di come ci dobbiamo comportare tutti, in questo caso, praticamente, il dottor Giuseppe Turco mi ha contattato perché lui da medico è stato avvisato di questa vicenda e praticamente ci siamo immediatamente prodigati a chiamare tutti i numeri che erano previsti, quelli del 1500, il 112, il 118, eccetera, per poter portarlo in ospedale per fare tutti i controlli di diritto, in sostanza. A poche ore di distanza dalla decisione di chiudere scuole di ogni ordine grado nella provincia ionica per permettere igienizzazione e sanificazione, la stessa scelta è stata compiuta dall'Ateneo Barese per le sedi Tarantine, per tutti gli studenti al momento si tornerà nelle classi lunedì. Rispetto al tema scuole, con il Presidente Emiliano in serata e sentiti tutti i sindaci, alcuni dei quali stanno qui da me, li potete vedere, di concerto con tutti i sindaci, col sindaco di Taranto, il prefetto, tutti quanti, eravamo in collegamento via chat, abbiamo ritenuto, vogliamo anche definire un eccesso di zelo, magari può essere questo, abbiamo ritenuto di procedere ad una igienizzazione, ad una sanificazione di tutte le scuole perché va da sé, che il luogo da tenere maggiormente cautelato sono proprio le scuole, quindi è inutile dirlo, poi viene tutto il resto. E intanto è attivo dalle ore 18 di oggi il numero verde informativo sul coronavirus della Regione Puglia, gli operatori del servizio, come c'è scritto anche in sovrimpressione nel nostro crawl, rispondono tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 22 al numero 871 39 31, a rendere noto questo la Regione Puglia, mentre sempre sul coronavirus Borrelli comunica che alle ore 18 di oggi sono 650 i contagiati in Italia ovviamente, 17 i morti e 45 le persone che sono guarite, 12 mila sono invece i tamponi somministrati, 56 tra i malati contagiati sono invece al momento in terapia intensiva. Noi restiamo ancora sul caso coronavirus e intervenuto su questo anche il consigliere regionale Giuseppe Turco. Da Codogno è andato a Milano, avrebbe preso la metro, raggiunto l'aeroporto e poi via aereo sarebbe atterrato a Brindisi per poi raggiungere in auto con il fratello Torricella. Qui sarebbe stato in auto isolamento sulla costa prima di contattare il medico e consigliere regionale Giuseppe Turco. Infine il ricovero al Moscati, è questo il tragitto del paziente risultato positivo al coronavirus, secondo il racconto dello stesso Turco intervenuto in diretta nella prima edizione di 85 News. Mi ha chiamato lui, signore che è stato già in isolamento, io ho ricostruito la storia, ho detto con chi stava, con chi non stava, mi diceva che era tornato da Brindisi in macchina, perché in aereo ho fatto scala Brindisi, poi in macchina col fratello. Avendo il numero del fratello gli ho chiamato di allertarlo di rimanere in casa con tutta la famiglia e di non uscire assolutamente fino al mattino, perché poi dovevamo allertare le autorità sanitarie. Ho chiesto a lui di rimanere già in isolamento, perché già vive fuori da Torricella, ed è stato gentilissimo, perché è rimasto in isolamento, mi ha telefonato al mattino al settembre 8 dicendo che avevamo un rialzo tecnico, perché quando è arrivato era sintomatico, e quindi ho lasciato come velocemente, 112, 118 e poi tutto, e così si è mostrato tutta la procedura, il protocollo standard. E ancora, dice Turco, i parenti del paziente sarebbero già stati sottoposti al tampone, nulla è dato sapere però sulle altre persone incontrate durante il viaggio dal 33enne, in primis i passeggeri del volo Milano-Brindisi. La zona è uscita, ha utilizzato la metropolitana, poi ha preso a maltenza l'aereo, a Torricella, siccome è venuto a contatto con la macchina, nella macchina col fratello, vada a sé che il fratello e la cognata saranno stati oggetti di tampone, no? Sempre, considera, sempre lei su Facebook ha scritto poche ore fa, i tamponi sono regolarmente stati eseguiti a tutti coloro che sono venuti a contatto con il paziente, come da protocollo. Questo vuol dire anche gli altri passeggeri, insomma, del... No, 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 Torricella è il luogo, eh! Discriminazione a Francavilla Fontana, lo sfogo di una comunità cinese insultata via social causa psicosi. Potete anche non comprare da noi, ma non insultateci. Questo in estrema sintesi il messaggio postato dai commercianti cinesi dello shopping center da Lorenzo della zona PIP di Francavilla Fontana su Facebook. Gente per bene, gente che paga le tasse, gente che dà lavoro anche agli italiani, i loro dipendenti, gente appunto stufa degli insulti più avuti addosso via social, e non solo psicosi da coronavirus, direbbe qualcuno. Insopportabili, rigurgiti, razzisti, diciamo noi. Da oggi, si legge sulla pagina dell'attività, siete cortesemente invitati a non insultarci, non discriminarci, non attaccarci. Inoltre, vi ricordiamo che non è obbligatorio acquistare da noi, tantomeno venire nei nostri store. Insomma, pazienza per gli affari, probabilmente in calo, causa psicosi. Pazienza finita, invece, per gli insulti. Vogliamo lavorare in santa pace? Qualora abbiate paura di frequentarci, si legge sulla pagina Facebook. Basta semplicemente non venire, non è necessario dircene di tutti i colori. Noi, sicuro del post, siamo cinesi, esseri umani, con una sensibilità e con un cuore. Effetti economici legati al coronavirus, da Brindisi arriva l'allarme della Federalberghi. Allarme lanciato dalla Federalberghi, legato al coronavirus, con la Puglia e il territorio brinisino, che segnalano un crescente numero di disdette, in particolare per i flussi turistici, non solo di italiani o di gente proveniente dalle zone rosse di contagio, ma nelle ultime ore si aggiunge anche un calo dall'estero, con l'America in particolare che sconsiglia viaggi in Italia. Un segnale certamente preoccupante, legato ad un effetto non solo immediato, ma anche in prospettiva sulle ripercussioni economiche che tutto questo potrebbe causare. Raccogliamo già da ora le prime conseguenze serie, quindi disdette che continuano ad arrivare. Le disdette sono trasversali, arrivano sia per la clientela leisure e business, quindi quella che può spendere un po' di più, quindi parliamo di alberghi importanti, che hanno di fatto annullato la maggior parte degli eventi legati soprattutto alla congressistica, quindi alle veglie aziendali, con diminuzioni che vanno dal 30 al 50% delle prenotazioni, fino anche a colpire quel turismo diciamo un po' più di bassa stagione e anche che colpisce soprattutto i due o tre stelle, come appunto i colleghi che si occupano di turismo scolastico, con un provvedimento regionale che ha vietato di fatto le gite in tutto il territorio nazionale. La situazione è drammatica, drammatica in un settore che, come un po', ci renderemo conto a breve, più di tanti altri in qualche maniera sta patendo appunto questa isteria, giusta o sbagliata che sia, appunto che vede l'Italia tutta, quindi dal nord al sud, come un focolaio importante per lo sviluppo del coronavirus. Un'ultima ora, con un post sulla propria pagina Facebook, il presidente della regione, Michele Emiliano, proprio pochissimi secondi fa, comunica che l'indagine epidemiologica condotta dal Dipartimento di Prevenzione della AS della provincia di Taranto ha identificato i soggetti con i quali è entrato in contatto il paziente di Torricela, di cui abbiamo parlato poco fa. Si tratta della moglie e del fratello ai quali è stato effettuato il test ed è risultato positivo. Entrambi sono in quarantena fiduciaria da ieri, anche per questi due casi sospetti si provvederà quindi ad effettuare il test di seconda istanza da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Attualmente sono in corso le attività per sottoporre a permanenza domiciliare con sorveglianza attiva i passeggeri del volo con il quale il paziente è rientrato da Milano Malpensa qualche giorno fa. L'elenco di relativi numeri di telefono è stato ricevuto nel pomeriggio dalla compagnia aerea e fatto oggetto di un'apposita ordinanza contingibile ed urgente che sarà notificata attraverso i carabinieri dei NAS del comando provinciale di Bari. Sono invece risultati tutti negativi al test per coronavirus, l'agente ziologico del Covid-19, i tamponi faringei dei casi sospetti giunti oggi al laboratorio di riferimento regionale. In tutto sono 20 casi, tranne i due contatti stretti del caso di Torricella proveniente dalla città di Codogno, come ricordato già nel servizio di apertura. Il livello di allerta resta molto elevato, l'attività di screening per il nuovo virus, dei casi sospetti per il virus, continua incessantemente, scrive il Presidente della Regione, Michele Emiliano. Una nota invece arriva dall'assessore regionale allo sviluppo economico, Mino Borracino, che ha convocato un tavolo di crisi finalizzato ad affrontare con tempestività e con strumenti concreti le pesanti ricadute economiche che stanno già colpendo le imprese pugliesi di ogni dimensione a causa dell'emergenza che si va delineando a seguito dell'epidemia in corso dovuta al cosiddetto coronavirus. Condanni alle nostre aziende che potrebbero essere incalcolabili. di queste dichiarazioni di Borracino attraverso un comunicato stampa. Condivido, scrive Borracino, la sollecitazione della collega Loretana Capone sul rischio concreto che tutto il comparto turistico, uno dei settori trainanti per la nostra economia, possa essere messo in ginocchio da questa situazione. Ma accanto al turismo e al suo indotto si legge tutto il sistema produttivo pugliese che potrebbe subire ripercussioni molto gravi. Quindi, come ricordato proprio pochissimi istanti fa, tramite la nota del Presidente Emiliano, ci sono altri due casi positivi parenti del primo caso pugliese, quello di Torricella, del 33enne di Torricella. Noi chiudiamo così la lunga pagina nell'apertura di questo telegiornale sul coronavirus e, cambiamo decisamente argomento, eliminare i rischi derivanti dall'attività dello stabilimento siderurgico di Taranto entro un mese, oppure gli impianti dovranno essere fermati tra 60 giorni. Questo è l'ultimatum del Sindaco Melucci ad Arcelor Mittal e ad Ilva in amministrazione straordinaria. Il Sindaco di Taranto ha emanato un'ordinanza con la quale impone ad Arcelor Mittal e Ilva in amministrazione straordinaria, ognuno per le sue competenze, l'eliminazione del rischio per la cittadinanza in relazione all'inquinamento e per la sicurezza dei lavoratori, tutto legato all'attività dello stabilimento siderurgico di Taranto. Melucci fa riferimento, tra l'altro, al rapporto di valutazione del danno sanitario e al quadro epidemiologico descritto attraverso le stime di mortalità in cui viene indicata la permanenza di criticità sanitarie. Un vero e proprio ultimatum, dunque, altrimenti si dovranno fermare gli impianti 30 giorni di tempo per individuare le criticità e azzerare i rischi conseguenti, altrimenti entro 60 giorni lo stop interesserà altiforni, cocherie, agglomerazione e acciaierie. Intanto, secondo fonti del Ministero dello Sviluppo Economico, non è prevista per questa settimana alcuna firma relativa ad accordi sull'ex silva tra Arcelor Mittal ed i commissari dello stabilimento Tarantino. Un camion ribaltato sulla provinciale per Grottaglia a Francavilla Fontana, dinamica rocambolesca per questo sinistro. Il camion in avalia era su un carro attrezzi quando è stato agganciato, per così dire, dai cavi pendenti collegati a dei pali posti sul ciglio della strada. Risultato, il mezzo è caduto in strada sul lato, mentre uno dei pali si è staccato dal terreno finendo dall'altra parte della carreggiata. Paura intorno alle 9 di mattina sulla provinciale Francavilla Grottaglia e al ridosso della zona PIP della città degli imperiali. La dinamica dovrà ancora essere accertata nel dettaglio, ma pare piuttosto rocambolesca. Il tir si trovava sul carro attrezzi quando si è staccato dal mezzo trascinando anche il palo e i cavi penzoranti. Per fortuna, nessuno si è fatto male. Sul posto, polizia locale e un altro carro attrezzi. La strada è stata ripulita dai detriti e dal carburante versato sull'asfalto. Dalle minacce all'assessore comunale ai riti di affidazione al clan in stile Sacra Corona Unita e quanto emerge dalle intercettazioni della polizia nell'ambito dell'operazione Final Blow. Ti do uno schiaffone e ti faccio saltare la testa dal collo. Il danno che stai facendo a noi lo devi pagare a caro prezzo. Sono queste le parole pronunciate da Andrea Pepe all'assessore Paolo Foresio come emerge da un'intercettazione telefonica in merito all'operazione della questura di Lecce che ha portato all'arresto di 72 persone Gli affari del clan sarebbero andati dalla droga al gioco passando anche per i concerti nel parco di Beloluogo Nonostante tra i consiglieri della società vi fosse Andrea Pepe cugino di Totti Pepe il clan si vide scippare i due concerti perché il comune di Lecce aveva emesso un provvedimento di diniego poiché l'iniziativa era incompatibile con la gestione dell'area verde pubblico intercettazioni telefoniche e ambientali hanno portato alla luce anche i riti di affiliazione mafiosa che venivano celebrati per entrare a far parte ufficialmente del clan o per l'elevazione di grado tipici riti della tradizione della Sacra Corona Unita con riferimento al battesimo ma anche a Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi patriotti italiani atti osceni davanti alla scuola denunciato un 57enne di Francavilla Fontana sorpreso da una passante che ha poi chiamato i calabinieri pensava di farla franca e invece è stato pizzicato con le braghe calate letteralmente nei pressi del monumento ai caduti di piazza Vittorio Emanuele II e di una scuola media un 57enne di Francavilla Fontana si sarebbe abbassato i pantaloni mentre era in auto sorpreso da una passante durante un atto di autoerotismo è stato poi fermato dai carabinieri della locale stazione che lo hanno denunciato a finire le guai con l'accusa di atti osceni e un uomo di Francavilla infatti nella serata di mercoledì quando il 57enne è stato appunto adocchiato da una signora che poi ha subito informato i carabinieri subito intervenuti alla fine il signore è stato deferito a piede libero per fortuna nessun minore è stato coinvolto rinviato al prossimo 6 marzo il vertice tra aziende e sindacati stiamo parlando del caso Ex Ocean per discutere le procedure di licenziamento avviate nei confronti di 95 lavoratori impiegati nell'ipermercato dal centro commerciale all'orizzonte la cassa integrazione per tutti i lavoratori che sono circa 170 si viaggia verso la cassa integrazione per tutti i lavoratori dell'ipermercato all'interno del centro commerciale Ex Ocean di Taranto rinviato al prossimo 6 marzo il vertice in programma questa mattina a Bari tra sindacati e la nuova azienda alla presenza della società che prenderà in gestione le aree commerciali ancora troppo distanti le parti all'indomani di un primo incontro tenutosi a Taranto dopo l'avvio delle procedure di licenziamento che prevedono 95 esuberi la strada da percorrere appare quella degli ammortizzatori sociali sarà coinvolto l'intero organico ovvero circa 170 persone esclusi soltanto i quadri direzionali una ventina di unità la nuova proprietà è intenzionata a ricorrere alla cassa integrazione in questa fase di passaggio di consegne in quanto sarebbe necessario portare in equilibrio i conti dell'ipermercato del noto centro commerciale Tarantino c'è inoltre la volontà di un restringimento dell'area attualmente utilizzata come superficie di vendita 2000 metri quadrati infatti saranno affidati ad un nuovo partner commerciale che a metà di quest'anno potrebbe assorbire parte dei 95 esuberi e su questo punto e in particolare sul numero la discussione è ancora aperta proprio su questo argomento ora la trattativa propone qualche difficoltà in più se ne riparerà il prossimo 6 marzo l'Inps non assicura le giornate lavorative e protestano il titolare e i dipendenti di un'azienda agricola impegnata in questi giorni nella raccolta degli ortaggi lavorano gli ortaggi in campagna in un periodo peraltro molto intenso per la raccolta e con regolare assunzione ma l'Inps non assicura il riconoscimento delle giornate protesta dei lavoratori della ditta Stefano Caroli davanti alla sede di Piazza Vittoria il titolare dell'azienda accompagnato da un sindacalista e i lavoratori hanno chiesto un incontro con i vertici dell'Inps l'Inps tiene in nero i lavoratori dell'azienda i lavoratori sono assicurati sono assunti sono avviati al lavoro regolarmente stanno lavorando adesso è un periodo per gli ortaggi di lavoro in campagna però l'Inps non assicura le giornate cioè praticamente sono lavoratori tenuti a nero dall'Inps una scelta non si capisce bene come mai l'azienda in questo caso ma ci sono diversi casi in provincia di Brindisi che fa capo quindi alla vigilanza dell'Inps di Brindisi viene tolta l'immatricolazione all'azienda con tutto che però l'azienda ha i lavoratori assunti è una situazione assurda non c'è neanche un giudice a cui rivolgersi per ottenere poi che venga ripristinata la regolarità voi siete in pieno ciclo di produzione quindi c'è un pieno ciclo di produzione adesso abbiamo il problema che non possiamo assurperare gli operai in più poi abbiamo già lavorato 2017-2018 e loro hanno già cancellato le giornate lavorative dei lavoratori quindi un problema è drastico non è solo la mia ditta qui ce ne sono tante ditte di questo problema qua cambiamo argomento quasi sei anni fa la base militare della Marina di Grottaglia sul quartier generale della macchina organizzativa che coordinò effettivamente fu impegnata nel soccorso dei 477 passeggeri lo ricorderete a bordo del traghetto in fiamme nel canale Dothranto Norman Atlantic ascoltiamo fu una vasta operazione di soccorso mai tentata prima che coinvolse oltre 20 navi mercantili e militari di diverse nazionalità numerosi elicotteri italiani e greci 477 le persone salvate affrontando condizioni meteo-marine estremamente difficili impossibile dimenticare erano le 4 e 30 ora italiana del 28 dicembre 2014 quando le fiamme divamparono nel garage della nave Norman Atlantic partita il giorno prima da Egumenizza e diretta ad Ancona con a bordo 443 passeggeri 56 membri dell'equipaggio ed almeno 6 clandestini il Mayday alle 4 e 47 un dispiegamento di uomini e mezzi in soccorso 3 gli elicotteri della base della marina militare di Gruttaglie fu una giornata storica io allora comandante del quarto gruppo elicotteri mi ritrovai una telefonata alle prime ore del mattino dicendomi che uno dei miei elicotteri stava decollando per sorvolare la zona che c'era appunto un traghetto in fiamme fu anche il riscontro che la scelta di Gruttaglie è stata probabilmente una scelta assolutamente azzeccata 30 ore in interrotte di lavoro ed è con il calare della notte che rimasero solo gli elicotteri della marina militare uomini addestrati e preparati professionalmente per operare in situazioni simili appena è calata la notte rimanero solamente gli elicotteri della marina gli H101 per un fatto di esperienza di volo sul mare e soprattutto con i visori notturni abbiamo parecchia esperienza in questo campo e quindi siamo rimasti noi a andare sul traghetto e poi a rilasciare poi i vari naufraghi su nave San Giorgio che era in zona per supportarci a dare forza in quelle ore difficili anche umanamente il forte senso del dovere il ricordo è un ricordo molto forte sentito di grande onore di aver partecipato a questa operazione e portato in salvo tutte queste persone riportarle a casa dalle proprie famiglie solo grazie a professionalità e competenze si è stati in grado di fronteggiare quell'emergenza definendo le priorità appena arrivati abbiamo fatto insieme al dottore una sorta di triage di tutto il personale presente e diciamo si è stata data la precedenza a tutte quelle persone che denunciavano problemi cardiovascolari o diabetici a sei anni di distanza altri voli altri soccorsi ma dimenticare è impossibile a Taranto una cena a pane e acqua per il Burkina Faso organizzato dal Movimento Shalom nel giorno delle Sante Ceneri il Movimento Shalom della sezione Puglia ha rinnovato l'appuntamento consueto dell'iniziativa quaresimale con la cena a pane e acqua nell'auditorium della chiesa San Pio X anche quest'anno non ha fatto mancare la propria presenza l'arcivescovo metropolita Monsignor Filippo Santoro che ha benedetto pane e acqua non è mancato un riferimento nel corso della nostra intervista al coronavirus pane e acqua una condizione che per tanti in realtà ogni giorno negli angoli del mondo ecco qual è il suo messaggio in questo particolare momento per la nostra comunità ionica anche lei provata seppure in altri sensi certo il messaggio è proprio di di vivere le difficoltà le prove le emergenze ma non chiudendosi nell'individualismo e nel panico ma spalancandosi facendo ognuno quello che può fare quello che deve fare nel 2020 Shalom presente in Burkina Faso da 30 anni è impegnata a realizzare un laboratorio di analisi accanto alle due strutture sanitarie create dalla ONLUS per offrire alle popolazioni cure più efficace di semi biologici noi ci adoperiamo per aiutarli ma soprattutto ecco questa sera noi vogliamo parlare anche dei nostri progetti intanto perché è giusto fare una cena così per essere vicini e quindi oggi ci dobbiamo astenere dall'assumere carni mangiare carni eccetera però pane e acqua è proprio la cena giusta perché loro non hanno neanche quello andiamo nelle scuole perché a noi ci interessano molto i ragazzi e andiamo a parlare di pace di solidarietà è importante parlare ai giovani e noi questo lo facciamo ecco questo lo facciamo in loco a Taranto avete sentito anche il riferimento in precedenza da parte dell'arcivescovo sul caso coronavirus vi ricordo che sono stati accertati o meglio sono stati comunicati altri due casi parenti del primo di Torricella del 33enne di Torricella che aveva contratto il virus ovviamente si attendono ancora gli esami e la conferma dello Sparanzani torniamo però a parlare per un attimo in chiusura di coronavirus per andare anche a riepilogare prima delle notizie sportive che arriveranno tra poco quali sono al momento gli eventi sportivi che sono stati in Puglia rinviati a causa del virus il coronavirus spaventa e ferma anche il mondo dello sport al di là del primo caso in Puglia anche la nostra regione vede lo stop negli sport principali se per il calcio si attendono novità e c'è chi pensa al blocco del girone H di serie D però ancora tutto da confermare e soprattutto da valutare la serie C trema alla luce anche del presunto contagio di un calciatore della pianese squadra del girone A ma per il momento si gioca fermi invece altri sport il basket tiene a riposo ben sei squadre pugliesi dall'Epicasa a Brindisi in A1 al Sansevero in A2 fermato anche il campionato di serie B in toto compreso il girone D quello delle pugliesi con Bisceglie, Rugo, Nardò e Corato che non giocheranno discorso diverso per la palla a volo la FIPAB ha disposto il blocco di tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali per questo weekend ma le attività come annunciato oggi riprenderanno da lunedì con la limitazione delle porte chiuse in determinate regioni quelle coinvolte dal virus tra cui al momento non figura la Puglia situazione confusa per la palla a mano la federazione aveva prima chiesto il rinvio di 10 partite su 11 tra serie A1 maschile e femminile compresa quella di Conversano contro Pressano poi il dietro front si giocherà regolarmente sabato l'unica altra partita che si sarebbe giocata comunque è quella tra Fasano e Siena ma il comunicato parla di rinvio per le squadre delle regioni con casi accertati indipendentemente da se giocano in casa o in trasferta se dovesse essere accertato il caso pugliese quindi cosa succederà è la domanda di tutti nello sport che si ferma questo è il nostro ultimo servizio vi ricordo alle 21.15 l'appuntamento con la Puglia nel pallone e vi ricordo anche a seguire alle 22.30 il telegiornale le ultimissime per avere appunto ancora novità su tutto quello che sta succedendo in queste ore in particolare sul caso coronavirus che ha monopolizzato ovviamente l'attenzione della nostra regione ormai da ieri sera grazie ancora per averci seguito e buon proseguimento di serata ovviamente sulle nostre reti e buon proseguimento